Non ci sarà prevendita per il match che l'Avellino disputerà domenica a Fregene. La società, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che i tagliandi sono stati messi a disposizione dei propri sponsor, delle autorità e dei club del tifo organizzato, locali e fuori regione. La razza di questa decisione consiste nell'evitare problemi di ordine pubblico davanti ai botteghini, essendo, quello concesso dall'SFF Atletico, già un esiguo numero di tagliandi ai quali vanno sottratte le categorie che la Calcio Avellino SSD ha voluto tutelare. In questa maniera sarebbero rimasti pochissimi tagliandi a disposizione con il rischio concreto di disordini al botteghino ed anche all'esterno dell'impianto laziale, che analizzando l'intera categoria è ufficialmente il più piccolo della D. Se fuori dal campo c'è qualche perplessità per una situazione che con ogni probabilità si ripeterà poche volte nel corso del campionato, sul sintetico del partenio Lombardi, Archimede Graziani ed i suoi ragazzi continuano a lavorare in vista del match. Ancora prove tattiche per il tecnico toscano, che anche nell'ultima seduta ha fatto a meno di Alessandro Devena, il quale sta continuando nel suo programma di terapie ed allenamento differenziato. Con questa situazione, con l'avvicinarsi della gara, il suo impiego a Fregene diventa sempre meno probabile. In terra laziale, Graziani potrebbe disegnare una nuova veste tattica alla sua squadra. 4-4-1-1 che potrebbe vedere il ritorno di Nicolas Mitra sulla corsia difensiva di sinistra. Il terzino francese da ormai due giorni si allena a pieno ritmo e potrebbe concedere a Fabiano Parisi la possibilità di agire più avanzato. A quel punto però, con la Gomarsini in porta e la restante parte della difesa, composta da Nocerino, Morero e Mikhailovsky, resta da capire se il tecnico schierilandera a centrocampo o in attacco. Se dovesse propendere per la prima soluzione, Buono prenderebbe il posto di Gerbaudo. Se invece dovesse decidere di schierare Lander in attacco, l'alternativa è una sola, Mentana alle spalle di Nando Sforzini, soluzioni e prove che verranno testate contro la Juniors di Dario Rocco.